carissimi amici di radionafrontiere ben ritrovati dal vostro raffaele russo mando allora abbiamo una piacevole un piacevole amico del bellini pizzeria e ristorante generali tornati ciao gennaio ciao buongiorno e buonasera a tutti allora partiamo un pochettino dalla storia di questo bellissimo locale 70 tondi tondi il 7 maggio abbiamo compiuto 60 e 70 anni di attività siamo nati a maggio del 1946 dai miei nonni genaro e vincenza che aprirono e siete vuole adesso che so ci sto io alla terza generazione sempre a livello di ristoratori e pizzeria certo l'augurio poi chiaramente di fare senti però 70 poi combacia anche con tante belle tante belle cose tante novità fra cui c'è una pizza che merita una merita particolarmente sì oltre il mese scorso siamo partiti con delle pizze d'elite e ci è venuto l'idea di portare a termine l'ultima pizza nata è quella delle mura greca ovviamente che si trovano a mediacente al nostro che prende uno spunto al nostro civico e abbiamo dato proprio la forma classica rettangolo della piazza e con tante novità e bordi ripieni e quindi vi invito direttamente a venire a gustare ecco quale migliore sponsorizzazione in tal senso ma ecco a proposito oltre alla pizza da te citata in questo momento ce ne sono anche delle altre no ci sono le pizze di sì 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 come no dalle classiche intramontabili margherita marinara e quelle di base al finire ti ripeto con queste otto tipologie di pizze menù d'elite che abbracciano sia un po il periodo estivo che invernale con prodotti di nicchia è l'ultima nata inerente ti ripeto alla piazza perché ormai nel più nel bene nel male che nel bene di piazza bellini si sta parlando stanno della movida della sera che ci sono atti di vandalismo al centro della piazza si trova il monumento di vincenzo bellini quindi come come non riqualificarlo e l'abbiamo cercato di riqualificarlo sotto dei cagli o direttamente una pizza ecco quindi anche una denuncia sociale che ci vuole sì sì è un modo per dire di rivalizzare questa questa piazza e cercare sempre di portare la flora e l'occhiola perché abbiamo monumenti a napoli che ci invidiano nessamente e che merita si merita di temi riportarla in una maniera degradante come adesso davvero un peccato e abilante decisamente quindi genera però c'è una particolare menzione da fare per quanto riguarda il ristorante perché noi ci siamo soffermati molto sulle sulle pizze ma anche il ristorante merita si come no a napoli e non solo siamo conosciuti per essere i primi aver inventato le linguine a cartoccio ecco quindi nel dettaglio che cosa consiste per diciamo gli ignorri e anche credo e mi spero che ci sia una minoranza che ancora non sappia cos'è le linguine a cartoccio comunque niente sono delle linguine trafile di secco trafilato al bronzo e gli ingredienti sono tutti a base di frutti di mare crostacea i gamberetti poli piscampi e il tutto una volta cotto viene messo in una carta pergamena vegetale e farla stare due tre minuti sotto il forno e per poi servirlo sotto una specie di pallone gumpio chiamiamolo così che al momento è vicino al tavolo viene aperto e quindi ne esce tutta la fragranza per tutti i sapori gli aromi del cartoccio beh stupendo fantastico beh se le pizze ci hanno fatto venire un certo langorino anche vi invitiamo anche ad assaggiare le linguine a cartoccio come no beh chi vuole venire alla pizzeria che sta anche bellini si ci troverà aperti tutti i giorni da lunedì alla domenica sulla pranzo operativi dalle 12 alle 16 17 18 e 30 24 quindi però oltre vabbè chiaramente alla sede storica beh possono cercarvi anche sui social sì siamo sul facebook con il bellino ristorante pizzeria su instagram e sul sul sito principale del ristorante www.bellinoristorante.it